Ciao ragazzi bentornati sul mio canale YouTube, oggi è ufficialmente il day after della release della Ultimate Edition in maniera globale finalmente siete potuti accedere sia da Xbox che da PS4, 5 e PC per provare il nuovo titolo di casa EA Sports io in quanto creator proprio della EA sapete che in realtà sono già due giorni e mezzo che ho avuto la fortuna di poterlo provare e oggi per rispondere un po' a tutte quelle che sono le domande che mi sono arrivate soprattutto durante le live ho intenzione di portarvi questo contenuto per condividere quelle che sono le mie prime impressioni ma soprattutto nei commenti ci tengo a sentire le vostre dopo il primo approccio mentre scorrono le immagini di quelle che sono le partite che ho giocato in questi giorni voglio iniziare a parlare però di quella che è l'esperienza di gioco a 360 gradi al momento e voglio partire dai menu, menu che secondo me sono tra le cose al momento un po' più stonate di questo avvio di FC25 perché sappiamo che sono comunque una componente fondamentale del titolo sappiamo che è un qualcosa nel quale noi trascorriamo tantissimo tempo sull'ambiente di gioco e al momento sono terribilmente in delay vanno a rilento in qualsiasi tipo di situazione che si tratta di cercare giocatori sul mercato scartare un oggetto, di mandare un qualcosa alla lista di trasferimenti quindi questo è credo uno dei problemi più grossi che ad oggi sta influenzando un po' quella che è la nostra esperienza di gioco e già non vi preoccupate sono state segnalate queste cose e spero che vengano risolte quanto prima possibile all'interno delle modalità di gioco poi abbiamo visto come sia stata introdotta quest'anno questa modalità rush questo campetto 5 contro 5 dove è possibile giocare con altre 3 persone e creare queste squadrette vecchio stile e io vi dico che se avete avuto modo di provarla sapete di che cosa sto parlando ma se non avete ancora provata giocatela ragazzi perché è veramente un qualcosa di super divertente così alla leggera in qualsiasi tipo di modalità sia in Ultimate Team che soprattutto in Pro Club dove poter giocare proprio con il proprio Mino è molto un qualcosa di svago vi andate lì a cercare a completare gli obiettivi, le evoluzioni tra una risata e l'altra ci stiamo passando comunque delle orette di live con altri creator sono sicuro che arriveranno dei momenti dell'anno in cui lo farò anche con voi e questa secondo me è un po' quella leggerezza che si era ricercata in passato nel gioco in opposizione a quella che è una crescente competitività che si veniva sempre a criticare al titolo di casa EA Sports una crescente competitività però della quale purtroppo va detto abbiamo avuto un assaggio con quelle che sono state le pitch notes di qualche giorno fa visto che si è parlato del rinnovamento della Weekend League che diventerà praticamente l'equivalente degli Hunger Games perché di base avremo 5 partite per giocare i nostri playoff e per qualificarci alla VL dovremo vincerne 3 per quanto riguarda la VL le finali scendono da 20 a 15 il numero di match i premi sono rinnovati in maniera tremendamente positiva però sappiamo bene che questo potrebbe anche incentivare qualcuno ad affidarsi a pro player che giocano dunque su altri account rovinando un po' l'esperienza di gioco generale per non parlare poi anche delle rivals rivals che per poterle portare a casa adesso necessitano veramente di tante vittorie ricredendo un grande impegno un grande livello non solo di competitività ma anche proprio di tempo da dedicare al gioco stesso che tutti magari non hanno quindi su questo mi sarei aspettato di vedere qualcosa di diverso qualcosa di diverso che in realtà a sorpresa è arrivato perché il tanto criticato passa a pagamento che avrebbe dovuto affiancare quello gratis ad oggi non è ancora arrivato e di conseguenza potrebbe essere che è successo come nel caso di Apex quando la community si era lamentata questo pass era stato rimosso quindi vedremo che cosa succederà magari il 27 sulla global release perché potrebbero tirarlo fuori in quella data secondo me ma al 90% potrebbero aver ritrattato e fatto un passo indietro e quindi lasciato un solo pass che comunque dà un sacco di ricompense come anno scorso per poter progredire nel nostro ultimate team ma veniamo alla ciccia la ciccia che è quella che secondo me stavate aspettando ovvero cosa penso del gameplay quali possono essere gli eventuali sviluppi di un meta anche se non ve ne sto a parlare troppo adesso perché sarei un fiffaguru per non dire fuffaguru a raccontarvi di cose dopo due giorni come se già avessimo capito tutto però sicuramente questo è un gameplay che ad oggi a me sta convincendo perché è stata depotenziata tantissimo la CPU in mezzo al campo questo ha permesso dunque di poter riutilizzare moduli con il trequartista io ad esempio sto provando un 4-3-3-4 ho giocato col 4-2-3-1 ho giocato col rombo c'è molta più libertà di manovra cosa che però invece mi sembra essere venuta leggermente a mancare per quanto riguarda invece la fase difensiva in area di rigore l'anno scorso era un po' il contrario c'era tanta CPU in mezzo al campo pochissima in area di rigore ora mi sembra che ce ne sia veramente tanta in area di rigore e pochissima in mezzo al campo i difisori se non selezionati ma controllando i centrocampisti fanno praticamente delle difese impeccabili e inoltre un'altra cosa che va a favorire questo tipo di intervento è che è stato tremendamente depotenziato tutto il comparto degli speed boost con i doppi passi non si va ad oggi in velocità come sul 24 non si va via in velocità ad oggi con l'L1 corsa sì ci sono delle nuove skill che possono darci dei boost ma ovviamente sono skill particolari che non hanno tutti quanti i giocatori e questo comunque limita un po' l'esperienza di gioco che vi dirò comunque non esce del tutto penalizzata perché io un gameplay un po' più lento e ragionato meno arcade senza la ricerca ossessiva di questi speed boost del dritto per dritto la posso anche accettare a me piace far girare il pallone mi piace cercare di costruire l'azione e quest'anno il tutto è favorito anche poi dal sistema di tattiche sistema di tattiche che magari può avervi spaventato in prima battuta ma credo che già adesso e poi con i video che arriveranno state iniziando un attimino a masterare e avete visto quanto livello di personalizzazione c'è l'importante è cercare sempre di avere una squadra che sia messa in campo in maniera coerente all'interno del repilogo quindi senza che vengano lasciati troppi spazi o che comunque gli spazi che vengono lasciati sono degli spazi consapevoli che noi dunque andiamo a lasciare all'avversario perché andiamo piuttosto a costruire da un'altra parte a difendere da un'altra parte e creare dei punti di forza da altre parti vi dicevo io sto gradendo tantissimo questo ritorno della figura del trequartista mi sta piacendo ad esempio il trequartista con la possibilità di entrare all'interno dell'area di rigore ovvero di attaccante avanzato advanced forward quel ruolo lì perché poi distinguiamo tra posizione e ruolo durante quest'anno ve lo ricordo in maniera tale da non creare confusione le posizioni sono i td, i dc eccetera i ruoli invece saranno il falso terzino il mediano di difesa il regista eccetera quindi distinguiamo quindi con ruoli indichiamo quello che adesso guida quelle che un tempo erano le istruzioni in generale mi sta piacendo anche il fatto che la difesa dunque è anche un po' più manuale perché ti va a premiare nel momento in cui nell'uno contro uno alla fine ti vai a selezionare il difensore dopo aver magari fatto quella fase di shield con la linea mediana per evitare di portare via un difensore troppo presto dalla propria linea mi sta piacendo il fatto che è possibile comunque schillare all'interno dell'area di rigore soprattutto con determinate mosse come ad esempio l'elastico che sto trovando più forte quest'anno a dispetto del reverse elastico che sembra un po' più lento un'altra cosa che ho trovato piacevole è il nerf del tiro a giro però d'altra parte a questo notato un ripotenziamento delle trivele e questa cosa non mi piace per nulla anche perché sappiamo bene che quest'anno non è possibile più tanto muovere il portiere e quindi quando magari l'avversario vi becca il time e non avete difeso il tiro vi prendete gol e vi dovete stare anche in silenzio per i portieri invece sto riscontrando in particolare un playstyle troppo forte che credo verrà necessariamente nel fatto che è quello dell'uscita il rush out il playstyle plus io ho Courtois ragazzi Courtois fa delle robe assurde prende una rincorsa dentro l'area di rigore esce sempre preciso a cannone sulla palla ed evita pericoli spesso e volentieri d'altra parte è il portiere che ho trovato l'ho messo in campo senza neanche troppa sicurezza di quello che facevo ma ad oggi non so se me ne riuscirò a separare finché non troverò un'alternativa con lo stesso playstyle plus passaggi che risultano un po' più lenti ed imprecisi quindi il tutto richiederà l'avere il corpo del giocatore messo per bene fisicamente per poter eseguire un buon passaggio troppi passaggi di prima inducono all'errore quindi evitando il ping pong un'altra cosa che era stata richiesta tanto dalla community così come un'altra cosa che era stata richiesta tanto dalla community era un po' il nerf del discorso dell'aereo eccetera che ad oggi non si sta vedendo tanto ma secondo me è più per una mancanza di interpreti perché non ci sono questi grandi giocatori che hanno Aerial in questo momento del gioco almeno per quanto riguarda il plus e quindi la sensazione di questi colpi di testa che al momento non trovano spazio nel meta dipende solo da questo poi non dimenticatevi un'altra componente fondamentale è che siamo comunque in un ambiente embrionale di gioco un ambiente nel quale adesso siamo ripartiti con carte basiche chi ce le ha più forti chi ce le ha meno forti comunque non sono performanti come i FUTTIS 99 ai quali eravamo abituati fino a due settimane fa quindi io sono sicuro che come al solito il vero meta uscirà più avanti uscirà quando si andrà a delineare il gioco usciranno tante carte e ci sarà anche più varietà per questo vi dico non vi faccio subito un video dove vi parlo di meta perché mi sentirei un bugiardo a caccia di like di views inutili eccetera non vi preoccupate che poi a breve arriveranno tutte le guide sulle tattiche su come si attacca quest'anno su come si difende squad builder prossima settimana per chi magari in questi primi giorni racimolerà dei crediti non vi preoccupate che ripartiamo a cannone però ci tenevo a condividere con voi in questo video quelle che sono le mie impressioni quindi nulla ragazzi io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like iscrivervi al canale commentare come vi ho detto nella intro con le vostre prime impressioni mi raccomando un discorso che sia costruttivo perché mi piace il confronto e non messaggi distruttivi che non portano a niente sono poi in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola più che mai in questo periodo a cannone e a me non resta altro che augurarvi un salutone al vostro Liberoschi e a presto ciao ciao ciao